Sei un ente del terzo settore, un'organizzazione di volontariato oppure una onlus? Ora puoi beneficiare di importanti agevolazioni economiche per promuovere l'inclusione lavorativa. Grazie al decreto del 27 giugno 2024 ecco cosa puoi ottenere. 12.000 euro una tantum per ogni assunzione a tempo indeterminato di persone con disabilità sotto i 35 anni, 1.000 euro aggiuntivi per ogni mese di lavoro fino al 30 settembre 2024. Incentivo valido anche per trasformazione da contratti a termine. Scadenza domande dal 2 settembre al 31 ottobre 2024 tramite i canali telematici dell'Inps. Non perdere quest'occasione per fare la differenza nella vita delle persone e per contribuire alla crescita inclusiva della comunità. Seguici per altri aggiornamenti.